Signore e signori, buonasera a questo gruppo di pazzi, è la Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona diretto da Marco Pasetto, il più pazzo di tutti. Questa sera abbiamo due ospiti molto preziosi, Dan Martinazzi alla chitarra e Stefani Oscianghizzoni ai pennelli. Buon concerto e grazie per essere qui. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.